Il primo trimestre del 2016 Il prodotto interno lord, espresso in valori concatenati rispetto all'anno 2010, sono aumentati dello 0,3% e quindi rispetto al trimestre precedente, mentre dell'1% nei confronti del primo trimestre del 2015. Questa è la stima preliminare diffusa dall'Istat e quindi sono buone notizie, lo si capisce, da questo 1% che per quanto riguarda il mondo del lavoro sono dati che naturalmente vanno poi messi nel contesto, ma anche nel contesto europeo è stato un valore positivo per quanto riguarda i termini congiunturali, perché sono ad esempio dello 0,5% in Francia, dello 0,4% nel Regno Unito e dello 0,1% negli Stati Uniti. Il nostro 0,3% rispetto all'andamento quinquennale, quindi si inserisce perfettamente nella media europea. C'è però chi il lavoro, insomma, in qualche modo lo contesta, almeno le leggi sul lavoro per quanto riguarda soprattutto la tassazione, e sono ad esempio gli artigiani che valutano positivamente, almeno quelli della CNA, almeno per quanto riguarda Firenze, le azioni che sono state interprese dal governo proprio per ridurre la tassazione in questi anni, primo su tutti il provvedimento degli 80 euro, però ancora la nostra città, in modo particolare Firenze, in uno studio redatto recentemente dalla CNA, a livello nazionale si pone come la quarta città più tassata dal punto di vista delle imprese artigiane d'Italia e quindi ci vuole un'informità, almeno questo è quello che chiare anche Franco Vichi, direttore della CNA di Firenze. Ieri era ospite nei nostri studi, ascoltiamo le sue parole. Se, come nel caso nostro, ragioniamo di città metropolitana fiorentina, è giusto che ci sia un unico regolamento urbanistico, che ci sia un unico regolamento dei rifiuti, cioè che ci sia una politica economica basata sulla pari dignità fra i comuni, perché se no rischiamo poi di creare quelle competizioni che alla fine poi mettono fuori mercato tutto il sistema paese. Tra questo ci arriveremo tra poco poi a parlare della provincia. In ogni caso, dallo studio che emerge è che Firenze, almeno lo studio sui capoluoghi, è al quarto posto come tassazione a livello italiano. Insomma, è una posizione molto alta. È una cifra che ci mette un po' in difficoltà da un punto di vista localistico, perché sappiamo tutti gli sforzi fatti in questi anni, anche dalle amministrazioni comunali, e ovviamente le tassazioni sono figlie di politiche collegate con le tassazioni a livello nazionale, però qui siamo arrivati a un punto di svolta, cioè o qui ci si mette in testa definitivamente che bisogna abbassare drasticamente la tassazione, perché Firenze per esempio è al quarto posto con Catania, al 68,5%, quindi non voglio citare poi Bologna che è al secondo posto, cioè a cifre quasi che oscilano al 70%. Bologna è quasi il 72%. Abbiamo fatto proprio una statistica su un'impresa con 5 dipendenti e abbiamo visto che praticamente fino al 7 di settembre di ogni anno, quindi dell'anno 2015, le nostre imprese, quella impresa ha pagato le tasse fino a quella data lì. Dall'8 settembre fino al 31 dicembre può ragionare di guadagnare qualcosa. Dati positivi dunque dicevamo per il PIL, ma oggi l'argomento del giorno è ancora quello delle unioni civili, visto che da una parte c'è la polemica, ma dall'altra insomma la grande soddisfazione per gran parte del paese per un riallineamento se non altro rispetto a quelli che sono i parametri degli altri paesi europei. Su questo, come dire, a portare la bandiera per prima c'è la parlamentare Cirinna, che ha lasciato e lanciato anche un videomessaggio in appoggio al candidato sindaco di Sesto Fiorentino del Partito Democratico, Lorenzo Zambini, proprio parlando dei diritti. Vediamolo insieme. Cari amici di Sesto Fiorentino, ieri abbiamo approvato la legge sulle unioni civili e vi ringrazio, ringrazio tutti i miei amici toscani per il grande aiuto che hanno dato al mio lavoro e al lavoro del Parlamento. La Toscana è davvero una regione dove i diritti sono fondanti e i diritti sono estremamente importanti anche nei programmi. Ecco perché vi parlo di programmi. Il vostro candidato sindaco, Lorenzo Zambini, è stato al mio fianco in questi anni di lavoro ed è un bravo candidato sindaco. Se il vostro comune avrà Lorenzo come primo cittadino, sicuramente la vostra città farà un passo in avanti anche in termini di qualità della vita, di inclusione, di capacità di ascolto. Quando i diritti sono maggiori, quando i diritti sono tanti, le città diventano inclusive e viverci è più bello. Buon lavoro e in bocca al lupo a Lorenzo. Questo era il messaggio di Monica Cirin a Lorenzo Zambini. Non la pensa allo stesso modo, ma c'era da aspettarselo la Lega Nord, che appoggia il candidato Maria Tauriello a Sesto Fiorentino. In una nota diffusa proprio dalla Lega Nord dicono che è tempo di archiviare il sistema che di fatto ha distrutto Sesto Fiorentino. Questo lo asserisce Alessandro Scipioni, che è segretario provinciale della Lega Nord a Firenze. Tempo di archiviare le faide partigiani per le quali è stato sacrificato il bene collettivo. È tempo di archiviare la mala gestione foriera di tante inefficienze, sperperi, opere inutili. È tempo di archiviare chi ha ridotto Sesto in uno stato comatoso, dal quale lotteremo per farla risorgere. Queste le parole di Scipioni, che poi ha parlato anche del buco di bilancio lasciato in eredità, che quindi impone vincoli stretti in termini di investimenti. Però le proposte sono quelle di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Sesto Fiorentino, come il Palazzo Pretorio, e anche di battersi per evitare le infrastrutture impattanti e nocive, come aeroporto e inceneritore, che quindi porti ad essere una Sesto, dicono, più vicina ai bisogni reali della sua comunità. E c'è infine la soddisfazione per aver raggiunto un accordo comune con Forza Italia e Fratelli d'Italia sul nome di appunto Maria Tauriello. E poi la frase conclusiva è, come dire, richiama a un light motive ormai ben conosciuto un po' da tutti. Entreremo in comune con la Ruspa, questo è quanto scrivono in chiusura della nota la Lega Nord provinciale. per quanto riguarda l'elezione a Sesto Fiorentino. Qualche giorno fa abbiamo parlato del caporalato, una situazione davvero imbarazzante per la nostra regione, visto che oltre 300 migranti venivano prelevati ogni giorno da un centro di accoglienza di Prato per essere portati nei campi del Chianti a lavorare nelle vigne in situazioni molto vicine a quelle del vero e proprio schiavismo. Di questo ha parlato anche oggi il ministro all'Agricoltura del governo, Martina. Il primo vero tema contro il caporalato, ha detto, sono i controlli sul territorio. Il fatto che siano aumentati del 50% tra il 2014 e il 2015 è un dato di grande significato, così ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina durante la presentazione del terzo rapporto sulle agromafie e il caporalato. Il fenomeno del caporalato, ha sottolineato, va sradicato. Il governo è in campo con tutta l'attenzione e la forza. Su questo è intervenuto poi anche il leader della CGL Camusso, che ha detto che però bisogna fare di più. Intanto cambiamo argomento perché c'è discussione, come sappiamo, anche in vista dell'elezione a sesto per quanto riguarda l'ampliamento di Peretola, ma insomma arrivano i primi dati di Toscana Aeroporti per quanto riguarda il primo trimestre del 2016 e il segno più percentuale sia di passeggeri che di incassi è davvero notevole, visto che segna un nuovo record. Vediamo. Anche tra gli aeroporti c'è chi cammina e chi vola. E basta guardare i risultati del bilancio di Toscana Aeroporti per i primi mesi del 2016 per capire che la holding Firenze Pisa appartiene alla seconda categoria. I passeggeri nel primo trimestre sono cresciuti del 5,1% rispetto al 2015. Le cifre sono espresse nel resoconto intermedio di gestione presentato e approvato da Toscana Aeroporti. I passeggeri sono cresciuti sia a Pisa del 4% che a Firenze del 7%, cifre che chiariscono anche l'attrattiva turistica che la nostra regione, in particolare Firenze, rappresentano in questo momento. Sono record registrati dopo la buonannata 2015 che riguardano però non soltanto il numero di utenti ma anche i ricavi operativi, che sono stati di 22,4 milioni di euro pari ad oltre il 10% in più rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Inoltre, considerando che per la stagione estiva sono previsti 14 nuovi collegamenti, tra cui il volo giornaliero Pisa-Doa della Catara Airways ed il rafforzamento del numero di frequenze su rotte già esistenti, i numeri sembrano destinate a crescere ancora. Anche grazie a questi numeri, probabilmente, migliora anche la situazione dei dipendenti di Toscana Aeroporti per cui la società e i sindacati hanno raggiunto un accordo per la stabilizzazione a tempo indeterminato di 24 dipendenti e l'incremento di orario per altri 81 tra Firenze e Pisa. Il 2016 è proseguito in continuità con i già eccellenti risultati conseguiti nel 2015, ha affermato il presidente Marco Carrai, confermando la validità della scelta strategica dell'integrazione tra gli scali di Pisa e di Firenze. Il primo trimestre dell'anno, solitamente condizionato da fenomeni di stagionalità, ha infatti registrato un nuovo record di traffico passeggeri e positive performance economiche. Questi risultati, uniti alle nuove importanti destinazioni annunciate per la stagione estiva, sono elementi che ci consentono di guardare con fiducia al 2016. E circa una cinquantina di studenti del collettivo di scienze politiche, appoggiati anche dagli studenti di sinistra, stanno contestando Alessandra Mussolini, ospite stamani del convegno organizzato al Polo Sociale dell'Università di Firenze a Novoli. Un convegno dal titolo Terrorismo e Immigrazione, Schengen funziona? Contestatori che si sono scagliati contro la scelta di dare spazio all'euro parlamentare perché dentro l'università non ci può essere spazio per la propaganda fascista, la xenofobia e l'omofobia, così hanno scritto. Chi ama la cultura ripudia il fascismo, è anche uno degli slogan apparsi sugli striscioni. I ragazzi fin dalle prime ore del mattino restano sotto controllo vigile di decine di agenti in assetto antisommossa. Tra loro le forze dell'ordine è un muro anche di carta pesta, simbolo, eccolo qua, lo vedete nelle fotografie, simbolo del muro del Brennero. Gli studenti poi hanno improvvisato anche un corteo lungo il perimetro della cittadella universitaria, come riportato dall'agenzia Dire. Le foto invece, come avete visto, anche dalla didascalia, erano di Repubblica.it. Noi cambiamo argomento, ma parliamo di cronaca perché c'è stato un investimento che ha messo molta paura, un incidente che poteva davvero trasformarsi in tragedia visto che ha colpito un ragazzo di 15 anni, successo alle Sieci, vicino a Pontassieve. Sentiamo il servizio di Giovanni Crocchini. Grande spavento a Sieci per l'investimento di un ragazzino di 15 anni nel centro del paese. È infatti di ieri la notizia che ha spaventato tutta la comunità locale. Un ragazzino del posto è stato colpito da un'auto verso le 15 nel centro del paese mentre attraversava via Aretina davanti alla gelateria via del Gelato. Il ragazzo, figlio di uno stimato professore del luogo, è stato sbalzato a terra dal colpo e subito è stato avvicinato da tutti i presenti che preoccupate hanno chiamato i soccorsi. L'adolescente è stato portato al mare dall'elisoccorso Pegaso, dove dopo accertamenti si sono fortunatamente escluse gravi lesioni, facendo così pensare solo da una brutta botta che ha lasciato più spavento che danni. Alla guida dell'auto, un uomo che inizialmente è sceso dalla vettura, ma poi nella confusione generale si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce, lasciando a terra il ragazzo investito. La polizia municipale sulle tracce del criminale che è fuggito a bordo della sua auto, un'utilitaria verde, probabilmente una panda, con la polizia che dopo gli accertamenti sta ricontrollando le immagini riprese dalle telecamere del comune sulla via Aretina per identificare l'auto durante il traffio. Le dinamiche si devono ancora accertare, certo è però il reato di omissione di soccorso da parte del guidatore, fuggito dal luogo dell'incidente. A pochi mesi dalla promulgazione della legge nazionale sull'omicidio stradale da parte del Parlamento, la sicurezza stradale rimane sempre un tema forte su tutto il territorio. Intanto una tragica notizia che è arrivata nella notte da Pisa perché un uomo è stato trovato carbonizzato nella sua auto, la vittima sarebbe un militare, la sua auto ha urtato due veicoli in sosta prima di incendiarsi per causa ancora in corso di accertamento, sono stati inutili i soccorsi sia dei vigili del fuoco che del 118, l'uomo si chiamava Gaetano Gallo, 57 anni, ex sotto ufficiale della 46esima brigata aerea, è il nome della vittima dell'incidente avvenuto ieri sera in via Contefazio a Pisa, la sua auto come è detto ha urtato due veicoli e poi avrebbe preso fuoco, inutili i soccorsi sul posto dell'ambulanza che è ripartita però vuota e poi la zona è stata anche interdetta al traffico per diverse ore necessarie ai rilievi da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di politica, inizialmente parlando di fatti querele che arrivano con richiesta danni per oltre un milione di euro è quello che arriva da Graziano Cioni, uno dei volti del Partito Democratico, delle precedenti amministrazioni che poi era stato invischiato nell'inchiesta degli appalti di Castello, il suo nome però è poi stato stralciato definitivamente quando è stato assolto in Cassazione pochi giorni fa, ma il suo volto compare insieme a quello di altre persone nella grande piovra che riguarda il Partito Democratico, una sorta di cartellone fatto dal Movimento 5 Stelle, presentato qualche giorno fa in una trasmissione sulla 7, un nome però di Graziano Cioni non è più tra quelli degli imputati, è più condannato visto che il fatto non sussiste, così ha detto la sentenza, e quindi da qui arriva la querela che riguarderà Alessandro Di Battista e il Movimento 5 Stelle, ma anche il blog di Beppe Grillo e persino la 7. Sentiamo. La piovra, essere tentacolare dal sapore mitologico, è metafora della mafia e della criminalità organizzata che ovunque può arrivare per decidere e sovvertire i sistemi, per accrocchiare e mettere a posto a proprio vantaggio. Il paragone non detto ma disegnato a caratteri cubitali è quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto tra l'animale degli abissi e il Partito Democratico, mettendo su ogni tentacolo i nomi e le foto di amministratori DEM indagati e condannati. Si potrebbe discutere del cattivo gusto, dello scarso tatto, ma è meglio discutere dei fatti, ovvero di quella querela che scatterà proprio contro uno dei leader del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, che durante la trasmissione Piazza Pulita sulla 7, condotta da Corrado Formigli, ha presentato per primo la grande piovra PD. Una piovra però zeppa di imprecisione, visto che nel mezzo ci stanno i nomi di persone non più all'interno del Partito Democratico, di indagati e non condannati, e persino di persone assolte perché in assenza di reato. Uno di questi è Graziano Cioni, ex sceriffo assessore della Giunta di Firenze, assolto proprio pochi giorni fa, ma comunque prima della trasmissione di Formigli. Cioni, insieme a Biagi, erano indagati nell'inchiesta di Castello a Firenze, ma sono entrambi stati assolti in Cassazione, con formula piena. Il nome di Cioni e quello del collega sono apparsi spesso in TV durante l'intervista a Di Battista e per questo lo sceriffo si è infuriato. Ora basta, è barbarie, ha scritto su Facebook, prima di dare mandato ai suoi legali, di querelare Di Battista, la 7 e anche il blog di Beppe Grillo, dove restano i nomi con le passate condanne, con una richiesta di risarcimento danni di un milione di euro. Infine, Cioni ha chiesto a Di Battista di rinunciare all'immunità parlamentare e di assumersi le sue responsabilità. Vedremo come andrà a finire. Intanto c'è anche la richiesta di conferma delle condanne per quanto riguarda il processo del Forteto che approda in appello, dura requisitoria del Pubblico Ministero in appello. La richiesta riguarda la sentenza del 2015 a carico del guru Rodolfo Fiesoli e di altri suoi 15 fedelissimi. Di fatto i 23 imputati, il 17 giugno dell'anno scorso, furono condannati dei 23 imputati, ne furono condannati 16 in primo grado. Al termine della requisitoria nel corso del processo di appello a Firenze, il PM Ornella Galeotti ha chiesto di confermare la sentenza. Rodolfo Fiesoli fu condannato a 17 anni e 6 mesi per la violenza sessuale anche su minorenni in affidamento, maltrattamenti e violenza di gruppo. La richiesta dell'EPM riguarda anche la condanna a 8 mesi per l'ideologo del Forteto, Luigi Goffredi, e quelle per gli altri collaboratori che ebbero condanne per maltrattamenti non inferiori a un anno. Sulla base dell'inchiesta nella comunità sarebbero state consumate violenze e maltrattamenti nei confronti dei giovanissimi ospiti della struttura, come sappiamo, come spesso abbiamo parlato. Più che leggo la sentenza di primo grado, più mi convinco che era giusta, ha detto ai giudici il pubblico ministero Ornella Galeotti. Vedremo anche qui come andrà a finire la sentenza d'appello. Intanto noi cambiamo argomento, parliamo delle sfide che riguarda l'informazione, che è soprattutto quella del digitale, di stare al passo coi tempi e soprattutto per quanto riguarda l'informazione cartacea e quindi i quotidiani che questa mattina si sono riuniti in qualche modo in un convegno organizzato dal Corecom, dove era presente anche ovviamente il presidente del Corecom Vannini, che ha parlato ai nostri microfoni. Sentiamo. Presidente, questa mattina lei ha presentato uno studio, di cosa si tratta? Si tratta del completamento di un'attività di censimento della web press che abbiamo iniziato due anni fa in collaborazione con l'Università di Firenze. Il Corecom si sta caratterizzando un po' per le attività in termini di ripetitività annuale, come Internet Minori accompagna il mandato del Corecom fin dall'inizio, anche questa attività di censimento della comunicazione 2.0 oggi trova il punto di sintesi. Abbiamo fatto un anno e mezzo fa la censimento di tutte le web tv, web radio, web press. Insieme a questo censimento c'è questo lavoro di approfondimento che è relativo appunto a come viene utilizzata la comunicazione 2.0 dai giornali tradizionali, con un'indagine sul campo esplorativa relativa alle principali testate giornalistiche, le mainstream della nostra regione, Repubblica, Corriere Forentino, la Nazione e il Tirreno, approfondire l'utilizzazione della comunicazione 2.0, quindi non solo la comunicazione cartacea ma la comunicazione tramite il portale e la comunicazione tramite i social. Queste tre forme di comunicazione congiunta e integrata come vengono organizzate all'interno delle redazioni, un'indagine sul campo con interviste, dati statistici, percentuali importanti che mettono a risalto il ruolo nuovo del giornalista social, giornalista solo pochissimi che sono riottosi ancora a non utilizzare la comunicazione 2.0, alcuni studi le indicano soltanto del 9% i giornalisti che non utilizzano i social in termini di comunicazione e si crea un problema che chiaramente questi giornalisti lavorano H24, quindi una volta c'era casa e bottega oggi c'è casa e redazione, la possibilità di aggiornare le notizie, dover inserire aggiornamenti in qualsiasi momento della giornata fa sì che questo lavoro sono aumentati tecnicamente i cicli anche di produzione lavorativa, quindi spazi fluidi perché la comunicazione è fluida, corre in rete e c'è una situazione di developing news come viene chiamata, quindi una comunicazione che non è soltanto statica ma è molto dinamica, interattiva con i lettori che producono essi stessi comunicazione a favore dei giornalisti. Tema della veridicità delle fonti, dell'analisi delle situazioni, di evitare situazioni di fake in entrata da parte di informazioni che provengono dal mondo dei social, dai lettori che interattivamente interloquiscono con le testate dei giornali. C'è una mostra davvero particolare che è quella all'aperto, al Forte Belvedere, più che una mostra sono le proprie opere installate proprio al Forte Belvedere di un artista ormai noto a Firenze, Jean Fabre, che in qualche modo ha donato queste opere alla vista di tutti i passanti che volessero naturalmente soffermarsi a guardarle, visto anche il loro predio artistico ma anche sematico, insomma di significato, c'era per l'inaugurazione anche il sindaco Nardella. Vediamo il servizio. In piazza Signoria l'enorme tartaruga dorata e il suo cavaliere dialogano con il monumento equestre di Cosimo I, mentre sull'arengario il Davide e la Giuditta si confrontano con l'uomo che misura le nuvole. Spiritual Gars di Jean Fabre è una delle esposizioni in spazi pubblici più complesse e articolate che l'artista fiammingo abbia mai realizzato, collocando più di cento opere in tre luoghi fiorentini di eccezionale valore storico e artistico, piazza Signoria, Palazzo Vecchio e Forte Belvedere. Per gli antichi bastioni sono state scelte installazioni di gusci di scarabei e sculture autoritratto dorate dell'artista. Il volto dell'uomo è ispirato al mio, a quello di mio zio, a cui ho voluto rendere omaggio. Tutte le opere, i personaggi e i volti che vedete sono come delle maschere che narrano dell'ambiguità dell'essere uno o un altro e si rifanno anche a concetti del passato, come il fatto appunto che ognuno di noi ha diversi aspetti, diverse maschere. La mostra al Forte Belvedere è curata da Melania Rossi e Ioana De Vos con il direttore artistico del progetto Sergio Risaliti. Dopo le mostre di Giuseppe Penone e Anthony Gormley, quella di Jan Fabre conferma il nuovo rinascimento di Firenze, punto d'incontro dei linguaggi artistici di epoche diverse. A Firenze in questi anni stanno venendo i più grandi artisti del mondo, viventi, Jan Fabre è uno di questi, per misurarsi con i valori, i concetti, i linguaggi dei grandi artisti dell'umanesimo e del rinascimento. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 ottobre. Intanto potrebbe essere un accordo raggiunto quello tra il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Andrea Quartini e l'assessorato alla sanità, visto che si tratta di alcuni pazienti affetti da fibromialgie che potrebbero essere curati tutti nella stessa struttura e quindi seguiti più da vicino, almeno questo è quanto spera anche proprio il consigliere del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini, che ha proposto questa mozione. Sentiamo le sue parole. Finalmente forse arriviamo a un rovesciamento della prassi stavolta, nel senso che dopo tre emozioni praticamente andate all'unanimità in Consiglio regionale, ma senza nessun esito, praticamente sostanzialmente disattese, sia rispetto al riconoscimento di questa patologia che è la sindrome fibromialgica, che è una patologia dolorosa, importante, che porta anche a grandi problemi di disabilità e di invalidità, finalmente arriviamo a una proposta più concreta che è quella di eliminare la condizione di situazione di sentirsi orfani dei pazienti con problemi fibromialgici. Praticamente in accordo con l'assessorato con cui ho parlato direttamente, l'assessora Saccardi, abbiamo provato a mettere nero su bianco la possibilità che i pazienti affetti da sindrome fibromialgica siano presi in carico da un unico centro a livello delle province della regione toscana. Il centro è il centro per la terapia del dolore e per le cure palliative che finalmente potrà garantire presa in carico sul serio e fornitura di prestazioni specialistiche a questi pazienti, senza doverli costringere a girovagare tra medici di famiglia, reumatologi, specialisti, fisiatri, ortopedici e così via, che rende la vita di questi pazienti e delle famiglie a volte veramente infernale. In questo modo abbiamo un'omogeneità di possibilità di presa in carico su tutto il territorio regionale. Spero davvero che alle dichiarazioni di disponibilità da parte dell'assessore si riesca nel prossimo Consiglio regionale ad approvare questa mozione che impegna la Giunta a realizzare davvero questa presa in carico. Intanto però c'è un'altra campagna di sensibilizzazione proprio portata avanti dalla regione toscana che è quella che riguarda i ragazzi nei confronti del mondo dei ciechi e proprio si basa su diverse visite guidate e spiegazioni alla stamperia Braille a Firenze. Vediamo. I più famosi classici per ragazzi, da Collodi a Sepulveda, sono alcuni dei libri che potranno imparare a leggere con la scrittura Braille gli studenti che faranno il nuovo percorso didattico inaugurato alla stamperia Braille. Il progetto servirà a sensibilizzarli alle tematiche della disabilità visiva, un handicap che può quasi essere azzerato, come ha ricordato il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi, Antonio Quatraro. Il nostro cervello sa fare cose inimmaginabili se c'è un'educazione giusta e quindi i ciechi possono scrivere, possono imparare matematica, musica grazie alla lettura Braille. Il secondo seme, la seconda lampadina è che per fare questo ci vuole l'educazione giusta e l'aiuto giusto, quindi un ambiente che accolga anche chi non vede. La stamperia Braille, unica stamperia pubblica italiana, assiste anche circa 40 studenti ciechi della Toscana. L'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha accompagnato i ragazzi nella prima visita guidata. Non mi stupisce che siano attenti a una cosa per loro nuova, diversa, ma che appunto insegna loro ad approcciarsi con chi ha diverse abilità rispetto alle loro, a rispettare le differenze, a interagire con ragazzi che hanno una particolarità, che non ci vedono. Oltre alla pubblicazione dei libri, la stamperia Braille produce anche spartiti musicali e stampe per non vedenti che trovano mercato in Europa, in Cina e in Giappone. Allora intanto devo dirvi di un annuncio del presidente della regione toscana Enrico Rossi, fatto attraverso Facebook. Per una freccia davvero rossa ha scritto il governatore toscano che ha lanciato anche l'idea di un treno cosiddetto socialista, ovvero con i posti sui vagoni ridistribuiti. Per una freccia davvero rossa ha scritto per fare stare tutti meglio e gli spazi ottimizzati per consentire qualche modesta differenziazione. È giusto, soprattutto che sia mantenuta per esigenze particolari, per attitudine o scelte individuali. La proposta è quella di mettere la seconda classe aumentata nei suoi posti sui treni freccia rossa, per farlo diventare così ha definito il treno freccia rossa. Quello che indegna, scritto Rossi, è il fatto che si vada da 68 posti in un vagone standard, dai solo 8 nel vagone executive, dice Rossi, per lo più vuoti. Non vi sembra uno spreco, un'esagerazione e allo stesso tempo un'ingiustizia? Questa è la domanda poi lanciata da Rossi sui social network. In chiusura ci dedichiamo al Giro d'Italia che arriva in Toscana e la prima tappa domani sarà prevista per il Chianti. Il Chianti Classico indossa la maglia rosa. La nona tappa del Giro d'Italia 2016 sarà infatti dedicata alla denominazione più antica del mondo, che proprio quest'anno celebra i 300 anni dalla sua prima definizione per mano del Granduca Cosimo III. La Chianti Classico Stage, questo è il nome della tappa, passerà domenica 15 maggio tra Radda e Greve in Chianti, 40 chilometri di impegnativi saliscendi sulle colline che il tre volte campione Gino Bartali, a cui la tappa è dedicata, percorreva per allenarsi. Per la prima volta in assoluto che una tappa prende il nome di un vino, Chianti Classico, e questo ci riempie d'orgoglio. Di solito le tappe del Giro d'Italia prendono il nome dalla località di partenza e di arrivo. La Chianti Classico Stage è associata a un ricco cartellone di eventi da maggio a settembre, tutti rigorosamente in rosa, come la maglia indossata anche dalle poderose statue dei galli neri che punteggiano il Chianti. Credo che una grandissima opportunità di promozione di un territorio, che è un territorio fantastico della Toscana, delle sue produzioni, perché non ci scordiamo che questi 40 chilometri sono un continuo saliscendi fra vigneti e oliveti. Il vincitore della tappa, non potrebbe essere altrimenti, sarà premiato con una bottiglia di Magnum in edizione limitata. E quindi, come dicevamo, da domani il Giro arriva in Toscana, domenica poi nel Chianti, lunedì giorno di riposo del Giro, ci sarà poi un evento speciale con una pedalata non agonistica sull'autostrada del Sole, l'autostrada che non è più utilizzata e poi da martedì la tratta Campi-Visenzio-Sestola, come spesso abbiamo parlato. È tutto per questa edizione di Studio Tg, ma voglio ricordarvi in chiusura che alle 20.35 torna a Telegram, stasera ospiteremo Federico Ignesti, sindaco di Scarperia San Piero Assieve, ma anche presidente dell'Unione dei Comuni Mugello. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.